Buongiorno, io ero stato invitato alla registrazione della trasmissione l'altro ieri in quanto rappresentante e corrispondente della RAI non potevo certamente da una parte rifiutarmi, dall'altra meglio vedere con i propri occhi da giornalista quello che accade e devo dirti che come l'avvocato che era collegato via Skype mi sono ritrovato in una situazione che in parte temevo ma che non immaginavo che arrivasse fino a quel punto ci ho detto, quello che è accaduto è stato concentrato negli ultimi minuti della trasmissione con tutto questo tira e molla, questo balletto sulla consegna in via riservata del gruppo sanguigno della ragazza di Olesia e sulle modalità di trasmissione in via riservata, quindi non in pubblico su questo devo dire che gli autori del programma russo lo avevano chiarito fin dall'inizio loro volevano che ci fosse come dire una sorta di contemporaneità di trasmissione mentre insomma la trattativa che era stata intavolata e su cui si era trovato un accordo tra l'avvocato Frazzitta e l'avvocato di Olesia, l'avvocato russo era andata in un altro senso, cioè dovevano scambiarselo prima in realtà tutto questo poi è avvenuto nel corso della registrazione del programma finché a un certo punto anch'io mi sono visto costretto a intervenire dicendo vabbè ma allora prendete il mio telefono cellulare e mandate all'avvocato Frazzitta il gruppo sanguigno della ragazza e a questo punto così poi si è fatto e però è durata questa storia è durata per quasi mezz'ora, 40 minuti cosa che non è andata in onda nel corso poi di quello che davvero è stato trasmesso nel senso che hanno tagliato tutta la lunga trattativa e la lunga discussione inserendo soltanto i passaggi più salienti, più importanti ciò detto, va sottolineato che purtroppo anche qui insomma la logica dell'audience, la logica dello share prevale sulla sensibilità delle persone coinvolte e nella fattispecie sulla sensibilità dei genitori di Denise a trasmissione chi l'ha visto in corso ieri sera probabilmente come atto dovuto il conduttore del programma Dimitri Borisov si è sentito in obbligo di inviare attraverso i social un video in italiano con il quale chiedeva scusa per aver eventualmente urtato la sensibilità del pubblico italiano e soprattutto della famiglia della ragazza ok, allora vediamolo questo video e poi volevo sentire Frazzita che cosa ne pensa di queste scuse guardate buongiorno, buongiorno a tutte comprendiamo le preoccupazioni di tutti i telespettatori italiani e sì, sia tramite l'avvocato delle signore Maggioni sia tramite lei, voglio scusarmi con il genitore di Denise per aver dovuto aspettare spiego come è successo non avevamo assolutamente idea che Olesa potesse essere al centro di tanta attenzione in tutta Italia deve capire che si è presentata al nostro programma in cerca di sua madre fiduciosa che si trovi da qualche parte in Russia o Ucraina dopo la prima trasmissione abbiamo ricevuto molte chiamate dai nostri telespettatori anche da regioni remote del nostro paese per tutto questo tempo il nostro team ha viaggiato in diverse città raccogliendo informazioni diverse famiglie erano assolutamente sicure che Olesa fosse una loro parente stavamo aspettando i risultati dei test del DNA e il ritorno di Olesa a Mosca per poter continuare la ricerca non abbiamo il diritto di divulgare informazioni riservate senza il permesso di Olesa non appena è tornata e ha consentito ha fatto subito l'esame del gruppo sanguigno come richiesto dal rappresentante delle signore Maggioni ed è ritornata nel nostro studio dove ha parlato con l'avvocato della famiglia è stato il primo a conoscere i risultati e la test per la famiglia era finita oltre a questo test il materiale genetico è stato confrontato con altre madri che hanno riconosciuto come loro figli Olesa anche loro conoscono già i risultati non volevamo in alcun modo ferire i sentimenti di nessuno abbiamo fatto confronti con quelle famiglie che a loro volta hanno riconosciuto Olesa come loro possibili parenti ed è importante per loro conoscere la verità non meno di quanto lo sia per una madre italiana noi come i medi in Italia ci occupiamo solo della storia ma tutte le decisioni vengono prese da Olesa e dai suoi rappresentanti legali grazie, ciao Allora, avvocato Frazzita la nostra reazione in studio è stata univoca lacrime di coccodrillo mi dica lei qui dicono lacrime di coccodrillo anche scarica barile scarica barile vabbè hanno usato tutti e due no no, più che altro ciao Maria Grazia è stato il mondo per proseguire in qualche maniera loro stanno cercando di cavalcare sostanzialmente ancora ulteriormente questa storia l'obiettivo invece della famiglia di Denise Pipitone, di Piera Maggio e Pietro Pulizzi è stata quella di bloccare prima possibile questa emorragia che se non avessimo bloccato in questa forma cioè cercando di trovare un accordo ed avendo questo dato che è il gruppo sanguigno preliminare per confrontarlo con quello di Denise questa storia sarebbe andata avanti per settimane con un effetto anche sulla stampa nazionale che certamente è stata molto vicina e questo ha fatto piacere a Piera Maggio questa vicinanza e questo affetto però questa storia doveva essere chiarita noi tutte le altre segnalazioni le abbiamo chiarite sempre senza tutto questo clamore mediatico questa segnalazione nasce in un contesto mediatico si sviluppa in maniera abnorme quasi come una emorragia mediatica e allora a quel punto della situazione abbiamo dovuto in qualche maniera mi sono dovuto immolare per certi versi per cercare di bloccarla a questo punto Piera non sarebbe mai andata ospite in un reality del dolore sui bambini rapiti quando proprio Piera Maggio e con l'associazione Aiutiamo Denise ha fatto in modo che si varasse una norma due norme del codice penale a tutela dei minori la sottrazione e il trattenimento del minore all'estero e il sequestro di minorenne che non esistevano prima delle lotte fatte da Piera Maggio Piera Maggio non poteva sottostare ad una situazione del genere è chiaro che abbiamo dovuto avere intanto delle rassicurazioni da parte di un avvocato che anche lui in un primo momento aveva dato delle rassicurazioni poi le ha cambiate successivamente non è vero che come dice il conduttore che loro devono sottostare alle decisioni di Olesia è proprio il contrario perché questo mi disse il collega in realtà è Olesia che è sotto contratto di questa tv russa e quindi a quel punto della situazione siamo riusciti ad avere delle rassicurazioni certe messe per iscritto dal collega prima dell'inizio del programma durante il programma improvvisamente il conduttore ha preso una direzione che noi comunque ci aspettavamo per cui abbiamo dovuto necessariamente reagire allora vediamo entriamo un po' in tutto quello che è accaduto e prendendo, anzi ringraziando il programma chi l'ha visto mandiamo le immagini e le sue reazioni proprio in diretta a tutto quello che stava succedendo nella televisione rossa guardate allora per me è importante un risultato finale ovviamente certo secondo lei secondo la sua presupposizione il suo gruppo sanguigno ma perché tutto questo mistero? d'altronde vogliamo sapere il gruppo sanguigno e noi diciamo se è uguale o meno non stiamo parlando del DNA in questo momento ecco il programma prosegue tra colpi di scena entrate spettacolari e test del DNA eseguito in studio l'ansia per l'attesa cresce ma nessuna risposta per questo gruppo sanguigno di Olesia sentite mi scusi questa ragazza cerca questa ragazza cerca la madre noi desideravamo semplicemente sapere il gruppo sanguigno se il gruppo sanguigno coincide con quello di Denise bene se non coincide niente allora se state a questi accordi che oltretutto sono stati vergati dall'avvocato di Olesia poco fa via mail se stanno a questi accordi bene altrimenti mi sembra veramente una si chiama Pantumima quella vostra Pantumima è divertente il gioco ma non per noi allora può cortesemente mandare un sms al suo collega al suo concittadino per esempio anche questa donna anche questa donna la presunta madre può guardare un attimo il gruppo sanguigno aprendo la busta non funziona così l'accordo è che voi ci date il gruppo sanguigno e noi ve lo confermiamo questo è se voi volete in questa maniera se non volete vi saluto basta semplice no? allora attendiamo attendiamo un attimo attendiamo un attimo io sto salutando io vi sto salutando ok? quindi o mi date il gruppo sanguigno o vi saluto e ad un certo punto l'avvocato Frazzita dice non si gioca con la vita delle persone sono state proprio queste le parole di dissenso che Frazzita che è collegato con noi in questo momento ha pronunciato contro lo show russo sentite scusa è molto semplice il discorso qui non stiamo a giocare con le vite delle persone noi non siamo in Russia siamo in Italia se fossimo stati in Russia venivamo in trasmissione esiste la pandemia noi non possiamo muoverci dall'Italia perché dobbiamo fare la quarantena e allora abbiamo pensato facciamo un lavoro più semplice dateci il vostro gruppo sanguigno se ce lo volete dare bene se non ce lo volete dare vi saluto oggi stesso che dobbiamo fare? ma non si gioca con le vite delle persone scusate ma voi state facendo un gioco che non è assolutamente un gioco che a noi italiani piace è chiaro noi desideriamo il gruppo sanguigno lo volevamo in via riservata avete voluto fare lo show? benissimo dateci il gruppo sanguigno e vi diciamo in diretta se il gruppo sanguigno è uguale a quello di Denis Pipitone dopodiché faremo il DNA e lo faremo come lo vorrete voi ma intanto dateci il gruppo sanguigno non facciamo giochi di nessun genere noi in Italia in Italia siamo seri grazie a tutti grazie a tutti